buongiorno buongiorno a tutti siamo qui per parlare della partita di ieri sera italia svizzera 1 a 1 un video l'ho fatto stamattina ragazzi perché la partita l'ho guardata in replica ieri sera dopo che sono tornato alla partita di basket che sono andato a vedere allora allora dove cominciamo ieri sera disastro disastro ho toccato male l'italia taglia brutta non la solita italia un italia che sembra aver fatto un passo indietro di due anni sembra sembrava così di vedere la l'italia che aveva paura di giocare la palla e questo non va bene altra cosa ho visto tanta imprecisione tanta non lo so insicurezza che non non è sinceramente non mi è piaciuta poi sicuramente il gol preso subito non è che ha portato caraggio ragazzi anzi li ha fatti sprofondare in una una bolla secondo me di 20 minuti dove la svizzera se avesse voluto ci avrebbe già non si avesse voluto se avesse avuto la forza i giocatori perché comunque la svizzera per me rimane una squadra molto media si ha dei buoni giocatori ma non ha dei fenomeni dove la svizzera si avesse voluto potuto scusate di nuovo avrebbe potuto tranquillamente fare due o tre gol e non avrebbe rubato nulla io penso che non vorrei non vorrei è un mio pensiero e non vorrei che ci fosse un appagamento per la vittoria dell'europeo non vorrei che nella testa di alcuni giocatori ci fosse ecco adesso noi abbiamo intossiamo i campioni d'europa gli altri quando giocano con noi c'è tutto dovuto e ci arriviamo in carrozza a ottenere quello che vogliamo tenere questo sarebbe sarebbe veramente molto brutto questo sarebbe brutto anche perché porta alla situazione che ci siamo ridotti oggi la situazione che lunedì sera devi vincere e cercare almeno di fare due o tre gol perché se la svizzera ne fa 4 5 alla bulgaria tu rischi di andare gli spareggi e andare gli spareggi in questo girone cui ragazzi sarebbe veramente brutto non voglio usare brutte parole ma sarebbe brutto in un girone con svizzera bulgaria nord irlanda lituania e va gli spareggi no mi dispiace ma assolutamente io non ce l'ho con roberto mancini e cerchiamo di essere chiari perché roberto deve stare in nazionale finché finché crede lui io spero che ci stia per per tutta la vita perché a me roberto piace e non lo ritengo il colpevole perché eri sera in campo io l'ho visto di di menarsi tutto dunque lui è il primo che si è reso conto che ieri sera i ragazzi non hanno fatto quello che gli ha chiesto lui adesso speriamo che ricaricano le pile e che che lunedì sera ci regalino questa benedetta qualificazione anche perché io di passare dagli spareggi veramente di nuovo poi magari succede quello che è successo un'altra volta non ci voglio neanche pensare a non fare i mondiali da da campioni d'europa sarebbe vabbè facciamo che non ci vuole pensare passiamo la parte una parte critica parte critica ragazzi o rimango della mia idea ci sono dei giocatori che giocano in questa nazionale perché perché in italia non c'è niente ragazzi ragazzi noi là davanti siamo parto dall'attacco davanti a parte parte chiesa ragazzi non c'è niente benvenuto su berardi mi è piaciuto un po ma insigne ragazzi io non voglio sempre continuare con insigne belotti immobile noi li decantiamo anche insigne che va fa il fenomeno 7 milioni 6 milioni ma 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 ringrazia dio che ti danno quei soldi ma ringrazia dio che tirano quei soldi insigne sei una pippa mondiale sei sei una pippa mondiale sei un giocatore normale non sei un fenomeno non sei un campione sei niente non sei niente e sembra che ti sia tutto dovuto tre volte per di palla allarghi le braccia non corri o chi sei ma chi cazzo sei ma io non ce la faccio a vederlo in campo ragazzi è incredibile comunque belotti non l'ha sfregata neanche il risera comunque lì è un discorso che ci portiamo avanti nella vita belotti immobile e non mi venite a dire raspadori non mi venite a dire dove giocare raspadori eh ragazzi raspadori che la gazzetta dello sport detta da me la gazzetta della merda decanta quando ho visto anche i titoli in inter sul baby sul baby raspadori la juve sul baby raspadori il milan sul baby raspadori il campione il campione d'oro fa il zero gol in italia zero gol in italia quest'anno e c'è una fanta calcio zero gol in italia ve lo dico io zero gol in italia il baby fenomeno ok quelli che sono baby fenomeni negli altri campionati hanno già fatto 89 gol 789 gol e il baby fenomeno ecco con quella sian star raspadori che è solo pompato dalla dalla stampa perché deve trovare un qualcosa un qualcuno da decantare purtroppo in italia la prima punta non c'è non c'è ragazzi o viene fuori questo lucca che continua a segnare nell'under 21 ma nell'under 21 segnavano anche immobile belotti dunque speriamo che sia che sia che sia lui quello che ci possa risolvere problemi perché il resto ragazzi è tabula rasa tabula rasa centrocampi di sera male tutti locatelli male male adesso nel centrocampo dell'italia deve giocare tonali tonali è imprescindibile è in più in forma di tutti anche barella ieri sera locatelli due giocatori che sembravano avessero mandato i fratelli gemelli non le capisco queste cose vabbè ci può stare che non sei in forma e barella poi veniva anche da un semi infortunio dunque però non può non giocare tonali basta con questo spirito di riconoscenza verso quelli che ha giocato gli europei anche di lorenzo non me ne frega un cazzo si ha fatto gol nella sua fascia hanno banchettato gli svizzeri infatti il cazzo che volevano zio prete non so non so non pensavo che in un girone del genere con con queste squadre ci fosse ci fosse bisogno di arrivare all'ultima partita contare quanti gol dobbiamo fare e comunque niente speriamo bene dai volevo solo dire questo a per quanto riguarda sì perché immagino a giorginio giorginio il rigorista ragazzi e rigori il tiro rigorista poi di sbaglia purtroppo nel caldo ci sono anche e sono anche gli errori dunque ci sta per il resto niente fatto un buon sabato una buona domenica e poi speriamo lunedì sera di poter festeggiare qualificazioni ciao a tutti boys